Nuovo video di Nail Art e questa è la Nail Art Bersata ho fatto un decoro in 3D per vedere anche quanto durava e su quest'unghia ho fatto una specie di sfumato che aveva visto in giro, le piaceva e quindi l'ho riprodotto spero tanto che vi piaccia come un corrente, un giallo smalto viola, un giallo smalto rosa, un giallo smalto bianco non so con gli smalti se sia possibile perché mi sa che asciuga velocemente prendo questo viola che se non sbaglio è di Bushman lo mescolo come sempre come sempre io prima ho fatto la ricostruzione ho messo il base, ho messo a smalto comunque anche il cover quindi posso sgrassare e opacizzare questo perché? Perché è più facile poi fare il French perché tende ad espandersi di meno il colore iniziamo col solito French l'ho fatto un leggermente più alto anche perché lei viene dopo 5-6 settimane quindi non va voglio che si veda lo scalino quindi lo fate leggermente più alto come sempre poco prodotto stendolo molto bene fate un sorriso coprite bene la punta e i lati poi mettete in lampada a catalizzare almeno 3 minuti se usate gli smalti aspettate che asciughi vi faccio vedere tutte le mani vi ripeto ho fatto il base ho messo a smalto il cover e quindi non c'è ancora forma non ho fatto bombatura oltretutto lei le tiene molto lunghe nelle 6 settimane crescono quindi le tendo a fare leggermente più bombate per precauzione giustamente dato che torna veramente dopo un sacco di tempo dopo aver anche qua opacizzato e passato la polverina per togliere ovviamente il resto qua ho fatto la bombatura perché sapete che il monocolore va sempre fatto dopo la bombatura ora lei ha scelto due colori un violetto che è questo e un rosa più chiaro in rete impazza lo shade che è una specie di gradazione di colore sinceramente avrei voluto far quello però non ho mai ancora seguito il video perché non ho avuto tempo quindi quando era lì che mi ha portato un'immagine simile ho pensato io come fare quindi ho messo il primo colore scuro davanti il colore chiaro sotto e poi ho cominciato a mescolarli insieme e in teoria in mezzo dovrebbe venire quello leggermente più sfumato tra i due non so, ditemi voi se è uscito o no perché a lei piaceva tantissimo io ero un po' perplessa oltretutto ho scelto due colori che nel fare il monocolore ho dovuto comunque farlo questo mescolamento di colori ho dovuto farlo due volte perché il rosa è un rosa neon quindi veniva leggermente chiaro come vedete quindi ho dovuto farlo due barra tre volte il tutto infatti come vedete questo è il terzo passaggio e sinceramente mi sa che con i colori più scuri veniva meglio oltretutto lo fanno di solito in verticale invece a lei non piaceva e quindi ho deciso di farlo fare in oblicuo vi piace? boh, fatemi sapere voi comunque è una cosa carina a lei è piaciuta tantissimo come al solito però fatemi sapere anche voi se vi piace o se non vi piace e questo decoro l'ho fatto sia sull'anurale che sul pollice poi ho sigillato quindi ho sigillato, ho sgrassato, ho fatto tutto ho deciso di fare i decori in rilievo con il bianco normale con questo pennello sottile che è Crystal Nails perché Noemi di solito li fa in rilievo dopo il sigillante non ho mai provato era un po' titubante per la durata e quindi ho chiesto se lei andava di farlo lei ovviamente mi ha detto sì ma non ci sono problemi anzi mi piace e quindi ho deciso anche io di provarci ovviamente per far questo dovete utilizzare un sigillante senza dispersione metterlo in lampada aspettare 10 secondi quando esce fare il decoro e poi rimetterlo in lampada a finire i minuti con quello con dispersione non potete farlo almeno così mi aveva insegnato Noemi spero tanto che vi piaccia se avete domande e altre fatevi sotto ciao